dovevamo tutti live da ben 0,2 secondi e benvenuti 12 ottobre 2020 sono le 20.59 la terza puntata della seconda stagione di Facce d'Api ciao Beppe ciao Fra, ciao Marco e mi bruci ancora il ciao Mar io dico ciao Beppe, tu mi dici ciao Fra e io dico ciao Marco e Marco mi dice ciao Fra che faccia, rifai va bene, rifai rifacciamo, rifacciamo un paio di minuti che si collegano stanno cominciando a collegarsi e poi lanciamo subito la sigla ragazzi perché questa sera abbiamo un ospitone della madonna ragazzi, ancora non vi svegliamo nulla ma tanto già lo sapete, intanto cominciano a salutarci, noi per accorciare i tempi facciamo che mandiamo già la sigla di Facce d'Api se dovessimo cercare qualche cosa da guardare oggi sceglieresti Facebook, perché c'è facce d'Api che fa scassare basterebbe solamente dire che c'è Marco che sa recitare poi c'è Beppe la regina c'è Francesco il suo ego che mara fa ora mettiti seduto e concentrato che tra poco e non c'è tempo da perdere ma andiamo subito il video di presentazione dell'ospite ragazzi io sono un pelino emozionato perché qua si alza il livello proprio in questa puntata di Facce d'Api storico capitano della nazionale italiana di rugby quella quale vanta anche il record assoluto di presenze è considerato uno dei migliori regbisti italiani di sempre e uno dei migliori numero 8 della storia del rugby ha vinto due campionati italiani due francesi una Coppa Italia e una Challenge Cup e ha preso parte a cinque campionati del mondo tre dei quali giocati con al braccio la fascia di capitano a Facce d'Api Sergio Parisse Signori Sergio Parisse benvenuto Sergio grazie grazie ragazzi benvenuto grazie ragazzi che emozione cioè io solitamente solitamente Sergio la quello che insomma si fa un po' il conduttore della situazione sono io ma questa sera questa sera oltre al fatto che io capisco di rugby come come Marco capisce di tennis abbiamo direi che ci sta ci sarà un 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 mastro di cerimonie per l'occasione che è il nostro Beppe Lamberto al quale tocca il cappello iniziale il cappello iniziale ci sono presenze in azione record di sette partite in azione cinque campionati dal mondo benvenuto benvenuto Sergio grazie 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 delle scritte si vedevano spero si vedessero si vedevano Beppe ha preso lezioni da Giovanni Mucciaccia per fare prima che ti collegassi tu facevamo le prove no Beppe un po' più avanti un po' più indietro su un sorto no no ho visto benissimo sono visto bene Beppe quindi a te l'onore della prima domanda per Sergio bene Sergio io ti farei duemila domande e che probabilmente poi ruberai tutto il tempo agli altri la prima cosa che mi viene da chiederti cercando di pensare di chiederti qualcosa che magari non sempre ti viene chiesto nelle normali interviste tu hai girato il mondo grazie a questo gioco bellissimo che è diventato il tuo lavoro che è il rugby sei stato in Giappone sei stato in Australia in Nord-Zelanda le Fiji le Samoa in Argentina in Stati Uniti Canada e chissà in quali altri paesi quello che volevo chiederti io è e quello che secondo me si chiedono anche tante persone quando uno sportivo del tuo livello si trova ad andare in paesi così belli a visitare posti così meravigliosi si riesce a trovare anche il tempo per goderti quella meraviglia che la vita ti ha dato e se sì quali sono i posti che ti hanno colpito di più e che ti sono rimasti nel cuore in questo tuo viaggio intorno al mondo che non è ancora finito ovviamente sì come dicevi te certamente grazie al rugby ho avuto la possibilità di conoscere tantissimi paesi che molto probabilmente magari non avrei mai pensato un giorno di andarci di conoscere si parte sempre dal presupposto che comunque si va a giocare quando si parte magari in tournée si va per affrontare delle partite delle altre nazionali quindi ovviamente il focus è sempre quello la prestazione ma devo dire che poi una giornata è fatta comunque di 24 ore che in una giornata in una settimana comunque anche di partite c'è sempre un giorno libero e quindi per noi per i giocatori c'è sempre la possibilità comunque di andare un giro andare un po' la scoperta ecco di posti nuovi e devo dire che sono quelle anche sono quelli anche i bei ricordi che uno si porta anche dietro non solo le partite giocate ma anche il fatto di magari conoscere altri posti non so adesso mi viene in mente l'isole Pigi credo che io ho avuto la possibilità qui in Europa che sia in Francia o anche in Italia di giocare con tanti ragazzi pigiani e tante volte ci sono ho raccontato che questi ragazzi quando vengono in Europa scoprono un mondo nuovo a me è capitato di giocare con giocatori pigiani che andavano a fare la spesa a piedi nudi con un pareo al mese di dicembre capito che non capivano niente e quindi sono come dire cose che magari se non vai a conoscere il loro paese non vai a vedere come vivono là e vedi che effettivamente questi ragazzi vanno per strada con i piedi nudi hanno un ritmo di vita talmente diverso al nostro sono cose che non le scopriresti mai e devo dire che ecco il regg mi ha permesso questo anche mi ha permesso di conoscere tantissimi bei posti bellissimi paesi altre culture e niente per tornare alla tua domanda sì c'è il tempo magari per ecco magari non si fa un tour diciamo molto molto lungo però magari il giorno libero si approfitta per magari andare a visitare quei magari posti magari più più diciamo tipici del posto si immagino di martorizzarti la collanina abbiamo capito che sei emozionato la stai distruggendo quella collanina ma fa rumore per il microfono no 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 assolutamente io volevo solamente dire che Sergio ha giocato con i figiani Beppe Lamberto al massimo con i foggiani cioè non è andato più diciamo oltre va bene ne siamo dicessi con le foggiane non so perché no 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 oggi oggi ci siamo ripromessi avendo l'ospite di livello perché noi Sergio a volte abbiamo dei piccoli picchi verso il basso ci lasciamo andare sono problemi sono problemi non vi dovete fare assolutamente nessun tipo di problemi con me no diciamo che in sfogliatoio in sfogliatoio in alto che in basso beh beh scusa no infatti dicevamo la stessa cosa negli sfogliatoi non credo che i momenti siano sempre solo alti e penso che non facciano tutto il tempo a recitare Platone ci sono i momenti di cui si recita Platone ma ci sono anche i momenti molto bassi nella vita da spogliatoio sì sì ovviamente quando uno è sportivo poi lo spogliatoio per me è una cosa proprio sacra diciamo è proprio una cosa che oggi ci sono telecamere ovviamente dappertutto microfoni robe beh io non è un qualcosa che condivido tantissimo però vabbè fa parte un po' della ecco della società oggi oggi tutti devono vedere tutto tutti devono ascoltare tutto ed ecco tante volte come dicevi te anche il spogliatoio è poi una cosa molto intima di una squadra e tante volte si dicono cose che ecco magari non sono le cose più diciamo simpatiche e belle da sentire però quando sei uno sportivo magari c'è anche bisogno di quelle cose lì ed ecco sono ecco dei momenti diciamo che dovrebbero rimanere all'interno dello spogliatoio esatto Marco sì allora Sergio la domanda che mi sono fatto per tutta questa settimana tutto questo tempo in cui sapevamo del tuo arrivo qua in faccia da P visti e conoscendo la tua storia poi Beppe ovviamente anch'io mi intendo direi in modo particolare ma Beppe chiaramente è stata la persona che ci ha condotto e introdotto in questa settimana però il tuo nome è un nome che è assolutamente conosciuto a tutte le persone che amano lo sport in generale perché comunque i tuoi numeri come diceva Beppe prima sono eccezionali la domanda che ti volevo fare io una volta che tu diventi Sergio Parisse quindi hai il tuo nome è collegato al rugby in maniera indissolubile e comunque vieni riconosciuto e riconosciuto come il miglior numero 8 di sempre cioè un personaggio a un livello altissimo dove trovi ancora tutte le mattine la voglia di doverti ancora allenare per cercare di arrivare il massimo provare spronare anche gli altri per raggiungere il massimo cioè non c'è mai il rischio di sentirsi comunque arrivato e quindi dire beh io il mio l'ho fatto adesso anche se non mi alleno al 100% tutte le volte fa niente romanticamente si potrebbe dire cos'è che spinge Sergio a voler essere ancora a Parisse esatto ma guarda onestamente non mi sono mai proprio come dire ho sempre svolto soprattutto ho giocato ho fatto il rugby approcciato il rugby fino a piccolo con 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 molta passione sicuramente con molta determinazione molta ambizione e e sono sono un competitore nel senso che non mi non mi accontento in generale anche se perdo magari a Natale che gioco a briscola o se faccio anche i giochi diciamo a carte più banali non mi piace perdere assolutamente devo dire che per rispondere bene alla tua domanda non non anche oggi ho 37 anni ovviamente sono diciamo più vicino alla fine della mia carriera che agli inizi però non so per me il rugby è un po' è stata una droga una passione non è mai non è mai non c'è mai stato un giorno che la mattina mi sveglio e dico ah oggi non voglio allenarmi oggi sai non mi va cioè potrei giocare a rugby tutti i giorni non mi stancherei mai e poi proprio questa dicevo prima non mi sono mai detto sono Sergio Paris ho raggiunto non so numeri che non so che abbiamo visto prima è un qualcosa che non mi come dire ho un grandissimo orgoglio sono fiero del percorso che ho fatto ma non è questo che mi come dire non è questo che mi fa star felice contento solamente quindi mi accontento di quello che ho fatto cerco sempre di fare di più cerco sempre di raggiungere più obiettivi adesso vi dicevo adesso venerdì c'è la finale una finale di Coppa Europa con il mio club ok l'obiettivo adesso è vincere questa Coppa Europa ci sono sempre obiettivi gli obiettivi sono ogni giorno magari andare in allenamento fare un buon allenamento così con le partite e quindi devo dire che è una cosa molto naturale in realtà non mi sono mai fermato a dire sì devo fare Sergio Brice sono così come sono con i miei pregi e difetti come tutti ma sono sono ecco sono uno che va sempre alla ricerca di ecco di migliorare e sono un competitore è la classica mentalità vincente questa qua no alla fine al di là di quello che uno possa però quelli che poi alla fine raggiungono un determinato livello sono proprio quelli che non si accontentano vedete ovviamente io posso farti un parallelismo solamente con il calcio perché è lo sport però vai a vedere un Cristiano Ronaldo e uno che tuttora che è Cristiano Ronaldo lui è quello che entra per primo in campo ed esce per ultimo Ibrahimovic anche lui cioè quelle persone che poi alla fine raggiungono il top sono quelli che la ragionano come te quindi non so guarda io credo che essere mentalmente e come uno sportivo un vincente va al di là dei numeri e delle partite vinte non vinte trofei vinti o non vinti perché devo dire che per esperienza in tanti sport ho visto tanti giocatori di rugby di calcio di sport soprattutto di squadra che magari hanno vinto tanti titoli ma perché comunque facciano parte di grandi di buone squadre ma magari non avevano quella mentalità vincente che aveva magari un altro giocatore che forse non ha vinto neanche la metà di titoli che ha vinto questo giocatore e quindi voglio dire è un modo di approcciare io credo che ci siano tanti sacrifici che uno sportivo fa che non si vedono perché oggi ovviamente tutti cosa facciamo guardiamo i social network vediamo cosa fa uno decide cosa far vedere non far vedere però credo che un rugby un rugby ma dico in generale immagino qualsiasi sportivo di alto livello soprattutto che ha questo tipo di mentalità credo che faccia proprio dei sacrifici che siano sacrifici che non ha neanche bisogno di far vedere che li sta facendo li fa proprio perché ne sente il bisogno di farli perché sa che questi sacrifici lo porteranno un giorno ad ottenere un buon risultato se li gode lui insomma se li gode lui in prima persona mi viene da dire due cose in risposta alla domanda che ho fatto è che diventa proprio poi uno stile di vita quindi questa roba qua poi diventa una cosa che tu segui oltre nel rugby che fa parte è la tua vita ma anche in tutte le altre parti dove dicevamo prima quando non eravamo in diretta anche nella vita privata diventa proprio un modo di vivere le giornate questa è la prima cosa la seconda cosa è chi è che si mette a giocare a briscola contro lui e vince pure chi ribalta il tavolo gli spacca la faccia io lo farei vincere sempre ragazzi magari in famiglia qualche zio cugino no sì diciamo che no no ovviamente scherzavo ma anche anche no perché comunque scherzavo ma anche no ma anche no Sergio tu a Natale sotto le feste quando ti raduni in famiglia torni in Abruzzo sei in Argentina sei in Francia dove sei? no 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 guarda io diciamo che qua il campionato non si ferma neanche quindi giochiamo sempre anche sotto le feste quindi magari ho due o tre giorni liberi e vado sempre sempre in Italia anche perché comunque io in Argentina ormai non ho più nessuno perché i miei genitori sì sì mio papà e mia mamma sono ormai da sette otto anni che sono tornati a vivere all'Aquila quindi no no torno torno in Italia poi mia moglie è di Roma quindi vabbè Roma all'Aquila siamo lì quindi magari a Natale sto un po' ecco quindi io non so io ho visto ho visto una foto l'altro giorno sul tuo Instagram tu e lui insieme è praticamente te fra trent'anni ci siete identici è allucinante siamo simili siamo simili soprattutto soprattutto per la concertazione di capelli siamo siamo molto simili lui è uno 70 a uno 71 quindi non è non è per niente alto parte l'altezza dai ci assomigliamo abbastanza quindi pensa che settimana scorsa anche eravamo eravamo io ero anche settimana scorsa io ero l'unico che si poteva pettinare ma settimana scorsa eravamo anche l'ospite anche lui diciamo senza capelli ma settimana scorsa io dicevo che loro erano tre pseudo imitatori di Vin Diesel mentre stasera invece ce n'è uno che probabilmente è Vin Diesel che vorrebbe imitare lui quindi anche Vin Diesel anche dal collo in giù ragazzi no 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 va bene così guarda tanto io io non ho mai avuto l'ascetta con i capelli quindi magari qualche anno fa avevo qualche cappelletto in più ma sapevo bene anche visto mio padre sapevo bene e la famiglia soprattutto sapevo bene che comunque sarebbe stato il tuo sporco destino diciamo esatto non era roba mia comunque ragazzi no no beh ormai la battuta è andata non ha più senso no però volevo fare notare ma la battuta era che tra Sergio Parisse e lo zio dell'Aquila non so chi avrei più paura ad affrontare a Briscola sinceramente effettivamente ma poi a Bruzzesi poi col carattere proprio devo dire che che non sono semplici comunque no no per tornare anche alla domanda di Marco nel senso del fatto di di comunque avere anche un non una qualità di vita ma un modo anche di di fare quotidiano che va a prescindere di quello che magari posso fare io per il rugby credo che appunto la cosa più bella è quello che magari vi parlavamo un attimo prima di di andare in onda è il fatto che effettivamente il rugby è uno sport che che fin da piccolo ti aiuta tanto anche in questo senso no perché devo dire che non è che i rugbysti sono tutti come dire tutti i giocatori e tutte le persone bravi corti cioè i rugbysti siamo tutti le persone normali come tutti gli altri con fisici più o meno chi più grande più grosso è tra l'altro uno sport anche molto inclusivo perché è uno sport dove puoi essere anche alto basso un po' più diciamo ciccione e trovi il tuo ruolo all'interno della squadra è uno sport proprio che ecco gli allenatori educatori ti cercano fin da piccolo a insegnarti quanto sia importante tre parole che per me sono importanti il sacrificio perché nessuno ti regala niente senza sacrificio non ottieni niente il rispetto e soprattutto l'umiltà e tante volte uno fa un po' fatica a pensare che puoi essere umile ma altrettanto ambizioso e non per questo diventare rovante nel senso che sempre per me è stato come dire umile perché è così che sono cresciuto dai miei genitori ma anche con rugby ma con tanta ambizione con tanta volontà di raggiungere obiettivi importanti Sergio nel frattempo dalla regia ci dicono che non hai pietà nemmeno quando giochi a carte contro tua moglie a Natale qui c'è una certa Silvia Bragazzi Parisse che non so se la conosci che dice un pochino un pochino mi sembra che non sentite niente adesso ma io lo sento un po' sottofondo ha avuto la splendida idea di mettere la vassoviglie proprio in momenti in cui mi dite che non sentite niente va bene nel frattempo Beppe Claudio ha notato da Youtube la faccia ghiacciata che tu hai fatto al mio parallelismo col calcio dice che non ha preso la tua faccia ghiacciata io ho un contributo da farti vedere Sergio perché c'è una cosa come dicevo io di rugby non capisco una favazza quindi non ho una domanda di rugby ma ti faccio vedere un filmato e poi ti chiedo qualcosa su questa esperienza che hai fatto vai sono qui mi chiamo Zangief sono un cattivo ciao Zangief ciao Zangief io ti capisco Rall quando mi prendi il matto posso schiacciare un cranio umano come un ovetto di quaglia tra le gambe ogni tanto pensavo perché devi essere così cattivo Zangief perché non puoi essere un po' più buono ma un giorno ho avuto un'illuminazione se Zangief fosse il buono chi schiaccierebbe cranio umano come ovetti di quaglia tra le gambe e allora mi dico Zangief tu fai il cattivo ma non vuol dire che sei davvero cattivo cioè a parte a parte che bravissimo adesso non so se se poi ce lo dirai tu se in realtà poi è rilassato sulla tua voce in post produzione bravissimo no no guarda devo dire che è stata un'esperienza fantastica perché è proprio un qualcosa il film era Ralf Spaccatutto diciamolo per Ralf Spaccatutto Sergio in questa riunione fra cattivi ha doppiato Zangief 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 che è un ma avete visto che comunque è uno come dire 10-15 secondi neanche diciamo di intervento ma ci ho messo tre ore a fare proprio quel picco perché la cosa divertente anche in qualche senso è anche simulante che a me piacciono molto le sfide e la prima volta mi sono messo lì davanti al microfono e vedere io vedevo l'immagine sua che parlava io dovevo cercare ovviamente di parlare allo stesso tempo che Zangief faceva e anche con i gesti solamente che mentre leggevo un po' lo script me lo sono letto due o tre volte dirlo e poi sentire la tua voce mentre in realtà tu sei fermo viene fuori una cosa che non si può proprio sentire è diventato una sfida e ho avuto la fortuna lì con la gente della Disney di avere uno stimolo bello perché era una sfida di qualcosa completamente nuova che non conoscevo è stato veramente divertente perché alla fine mi sono messo ovviamente lì non si vede ma io mentre parlavo mi muovevo facevo con le mani facevo i gesti come Zangief e devo dire che aiuta tantissimo è stata veramente una bella esperienza ma come come funziona in sala di doppiaggio la mia domanda è appunto relativa a questa cosa qui come funziona in sala di doppiaggio cioè come ha funzionato la cosa ti dico io ovviamente parlo da da ignorante di parte te la racconto ve la racconto così come come l'ho vissuta con parole come si dice magari a Roma un po' spicce così sono arrivato e c'era ovviamente questo studio dove io ero lì con un microfono con davanti avevo ovviamente come dire il testo di quello che dovevo dire e davanti a me avevo uno schermo uno schermo gigante dove ogni volta dovevo iniziare a parlare loro mandavano play e c'era la scena dove ovviamente Zangif si muoveva e con l'abbiale parlava diceva più o meno quello che dovevo ripetere io quindi quello è andato avanti almeno un centinaio di volte e niente la cosa divertente è stata quella proprio il fatto che uno pensa e io ovviamente da ignorante prima ho detto vabbè ma cosa non deve essere tanto difficile comunque di fare un doppiaggio ho fatto un doppiaggio di 15 secondi ho detto non immagino le persone che devono fare i doppiaggi di commedie drama perché io ho fatto Zangif che era un cattivo arrabbiato che spiacciava i crani con la vita quindi voglio dire è stato veramente qualcosa una sfida divertente e altrettanto difficile ok io vorrei commentare con te una cosa no perché noi sappiamo che tu avresti dovuto fare una partita di addio alla nazionale prima del lockdown poi questa cosa è venuta meno purtroppo per via del lockdown adesso ho leggiucchiato qua e là che probabilmente al 6 nazioni avverrà questa questa cosa però purtroppo siamo maledettamente a porte chiuse quindi infatti dicevo rugby riparte il 6 nazioni all'olimpico a porte chiuso l'addio di parisi all'azzurro ovviamente io non ti voglio chiedere che sarebbe ovvio che a tutti girerebbero le palle dopo 20 anni e più di carriera di fare l'addio al chiuso però che poi sono sicuro che recupererai fra un anno o due con una partita apposita con uno stadio gremito perché non potrebbe essere altrimenti ma quello che come ci si sente quando al di là della voglia comunque che tu hai tu giocheresti fino a 60 anni ok ma come ci si sente quando comunque si comincia a sentire che comincia ad esserci l'addio la nazionale quando il sogno che si è vissuto per più di 20 anni comunque per via dell'età per via di quello che insomma comincia un attimino come ci si sente che pensieri passano per la testa guarda bella domanda dovrei perdere magari 30 minuti per rispondere non è semplice guarda devo dire che il fatto che il il momento proprio diciamo che avevo tra virgolette scelto comunque che avevo comunque ipotizzato di fare la mia ultima partita con la nazionale è arrivato proprio nel momento in cui purtroppo il il covid è piombato un po' in Italia un po' dappertutto qui in Europa e nel mondo quindi diciamo che è stato è stato un qualcosa che lì per lì non l'ho vissuto male non l'ho vissuto ma 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 perché sono uno che non fa mai diciamo non fa tanti progetti a lungo termine cerca di vivere più ovviamente come hai detto te sapevo che ho 37 anni sapevo che sono alla fine credo che è giusto anche che ci sia un cambiamento è giusto che ci siano delle nuove generazioni nuovi giocatori che 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 prendano ovviamente anche loro un posto nazionale quindi per me era comunque un qualcosa che che era nella che era naturale che comunque nel ciclo di qualsiasi sportivo e poi veramente guarda durante durante il lockdown a casa con la mia famiglia sai rifletti pensi a tantissime cose ho pensato tantissimo a tutte le cose che ho vissuto con la nazionale e anche in generale e mi sento fortunato mi sento fortunato perché ho avuto la possibilità di 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 giocare di fare la mia passione e il mio lavoro ma soprattutto ho difeso la maglia azzurra che per me è tutto e l'ho fatto anche se questa partita quest'ultima partita non arrivasse mai per per x ragione e sono estremamente orgoglioso di quello di quello che ho fatto quindi credo che se il destino lo vuole sarà così se sarà con con zero persone allo stadio sarà così se sarà con lo stadio pieno vedremo onestamente non sarei sarei falso se ti se ti dicesse che non non mi interessa non è vero mi piacerebbe veramente poter fare una ultima bella partita davanti ai tifosi che in tutti questi anni sono stati veramente i tifosi rugby fantastici perché qualsiasi persona in Italia non solo dice una nazionale che non vince o vince poco e vedere sempre lo stadio estremamente pieno vedere l'affetto il rispetto il sostegno parola che nel nostro sport si utilizza tantissimo che abbiamo avuto dai tifosi tutti questi anni beh solamente per quello mi piacerebbe poter mettermi la maglia azzurra un'ultima volta davanti a loro i brividi ragazzi scusate ma mi sono venuti i brividi e io sono sicuro che avverrà ma anche perché ragazzi io voglio dire negare passato questo periodo negare un'ultima partita stadio pieno a Parisse sarebbe equivalente io mi faccio sempre i miei soliti paragoni col calcio ti chiedo assolutamente scusate lo facciamo con la box sarebbe come dire a Foreman di non fare un ultimo incontro con lo stadio pieno nel senso ci va poi proprio perché nel rugby c'è quel rispetto secondo me quel rispetto si ma guarda te lo dico guarda chi mi conosce lo sa che io sono uno che dice le cose come le pensa come le sente e non ha veramente assolutamente nessun tipo di problemi di dire le cose so bene che nella vita tante volte chi dice delle volte le cose un po' così tante volte non è sempre visto bene e credo che questa cosa non mi è mai interessata credo che la cosa importante ho sempre mi è sempre piaciuto pensare che comunque chi mi vede chi mi conosce ma anche chi non mi conosce possa vedere una persona che dice le cose come le sente e che se magari l'incontro per strada lo vedo sa come la penso senza giri di parole e poi non te lo devo assolutamente dire a te Francesco ma sai bene nella vita ci sono delle cose anche molto più importanti che una partita di rugby poi quando quando hai quando io sono fortunato della famiglia che ho cioè figurati mi piacerebbe veramente tanto ti dico non sono non sono ipocrita mi piacerebbe davvero tanto proseffare un'ultima partita con la maglia azzurra stadio pieno eccetera eccetera ma alla fine per me quello che conta è la salute stare bene la famiglia e poi niente sono comunque sia sono molto orgoglioso del mio percorso di quello che ho fatto quindi va bene anche così Beppe vai tu perché io ti vedo in adorazione e col colpo in canna quindi vai perché un'ultima cosa infatti quando prima la foto dietro la regina con la maglia dell'Italia è fantastica lasciamo dire e l'abbiamo messa apposta per te l'abbiamo messa per te Sergio grazie e anche le corna di Halloween nella regina però quelle non sono per te le corna sono solo per la regina sta attento a quello che dici che un attimo che te lo trovi sotto canna infatti quando ero così ho detto cazzo ormai l'ho detta comunque no questa cosa è bellissima perché ragazzi io credo che Sergio abbia idea voi non lo so ma io che ho vissuto il backstage dei sei nazioni cioè i terzi tempi fuori da Morefield dalla Viva Stadium dal vecchio Les Don't Road sono stato l'ultima partita al millennium cioè non avete idea il rispetto che hanno i tifosi di tutta Europa per Sergio quando poi ai terzi tempi di queste partite vabbè loro vanno a fare il terzo tempo con i rispettivi avversari che poi è anche voluto dire avversari in questo caso e noi ci si ritrova tutti insieme fuori dall'estadio a bere e non c'è stato il tifoso bere acqua sì sì certo acqua ci crediamo tutti casata che non abbia cioè che non adorano Paris davvero in Inghilterra in Scorza in Irlanda cioè c'era era una parola per la nazionale buona meno buona a seconda di come aveva giocato e delle parole splendide per Sergio comunque tutte le volte cioè è proprio il mondo del rugby che che ha in Sergio un valore aggiunto non è solo un discorso della nazionale italiana questo per farlo capire alle persone che magari ci seguono di solito ma non sanno niente di rugby come se noi avessimo davanti un corpo che ha dentro di sé Baggio Maldini Del Piero e Buffon per De Totti ecco mettiamola tutte nella sessanta ci stanno in dimensione secondo me ci stanno sicuramente esattamente pensavo la gente magari pensavo che la gente sta aspettando adesso dice qualcosa racconta qualcosa di un terzo tempo qualche qualcosa anche io mi aspettavo ora Beppe parte con come si dice l'aneddoto del terzo tempo di quella volta al Sei Nazioni ah no ce ne sono tantissimi un pomeriggio a Cardiff a Cardiff è bellissimo perché è l'unica città europea dove al centro non ha la cattedrale ma ha lo stadio è tutta una zona pedonale e non lo so perché per come ma finita la partita alle 5 di pomeriggio eravamo a ballare in un locale anni 70 con le luci roccia era così Cardiff è particolare poi ti dico io ho avuto la fortuna di giocare in tantissimi stadi in giro per il mondo ma come il Millennium a Cardiff per un giocatore di rugby è uno stadio che è proprio poi quando chiudono il tetto è una cosa fantastica la cosa bella proprio dei Gallesi che ovviamente per loro il rugby è religione è che quando tu sei giocatore esci a fare il riscaldamento vedi questo stadio chiuso ma lo vedi vuoto non ancora pieno vedi un po' di gente così sui spalti ma non tantissimo e la cosa incredibile è che dal momento in cui noi usciamo dal riscaldamento cioè finiamo il riscaldamento entriamo in spogliatoio che poi passano veramente dieci minuti neanche il tempo di cambiarti la maglia eccetera eccetera essere in gruppo là chiudere le porte dello spogliatoio dirci quelle cose che magari non si devono sentire più iniziare la partita nel momento in cui ecci fuori e vedi che praticamente è tutta una marea rossa perché ovviamente i Gallesi vi giocano la maglia rossa quindi e vedi proprio che lo stadio è strapieno e senti il boato cioè sono quelle emozioni che solo Cardiff il millennio almeno a me personalmente mi hanno regalato e devo dire che effettivamente anche da tifoso immagino che andare allo stadio vivere anche prima e dopo la partita soprattutto come dicevi te che a Cardiff lo stadio è proprio in centro e quindi appena esci hai ovviamente bar così per ecco far feste divertirti ed è veramente una grandissima festa beh a questo punto direi che se se ma ci sarà sicuramente l'occasione di rivederti con la manetta dell'Italia per questa partita che io a questo punto Beppe organizza e ci andiamo assolutamente sì assolutamente sì a questo punto si va perché 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 no sarebbe veramente ma quando si inizia il 6 nazioni quando quando ricomincia breve ormai Sergio allora ci sono due partite che adesso si giocano nel mese di di ottobre se non sbaglio ci sono due partite che non si sono giocate l'anno scorso del 6 nazioni quindi una è Irlanda Italia Dublino e l'altra è Inghilterra scusa Italia Inghilterra all'Olimpico per finire diciamo i 6 nazioni del dell'anno scorso quindi del 2020 ovviamente come sapete saranno partite che si dove si giocherà a porte chiuse e poi ci sono altre tre partite durante il mese di novembre di una competizione che l'hanno chiamato Autun's Cup Coppa di Ottunno dove praticamente noi in Italia giocheremo in Italia contro Figi Scozia e poi una partita in Francia contro i francesi ovviamente ci sono altri gruppi eccetera eccetera ovviamente tutte queste partite molto probabilmente verranno giocate anche se non a stadio chiuso a chiusi ma comunque con penso immagino con pochi spettatori e poi il 6 nazioni prossimo si giocherà se tutto va bene a febbraio a febbraio del 2021 speriamo Sergio noi sappiamo che tu domani mattina hai gli allenamenti presto quindi abbiamo appunto accordato questa mezz'oretta ma prima di lasciarti vogliamo farti vedere quanto uno di noi ad un certo punto della settimana nella preparazione della diretta con te si sia un attimo convinto troppo e abbia si sia lanciato Marco in questa cosa veramente terribile perché allora va detta questa cosa bellissima ho detto questa cosa che quando io ho visto come dicevo prima ti si conosce no? però quando ho iniziato a vedere le varie foto da poter utilizzare per fare il montaggio che abbiamo utilizzato mi apparsa questa foto qui dove io poi ho messo la mia faccia in maniera molto subdura e ho detto in chat con i ragazzi nella nostra chat di organizzazione di Faccia d'AP ho detto ragazzi ma il suo trapezio ha un trapezio di gigantesco è veramente bellissimo perché c'è una fisicità eccezionale posso dirti oggi che oltre ad avere un fisico pazzesco sei anche una persona pazzesca veramente grazie Marco grazie piacere incredibile sembra di parlare veramente con una persona che conosco da anni è stato bellissimo piacevolissimo ma infatti è per questo che se il 6 nazioni avrà qualche spettatore all'olimpico ha detto che ci invitano i tre ci fa entrare volentieri no 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 volentieri guarda io sono ovviamente sono una persona estremamente no 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 ma ve lo dico con molta con molta tranquillità non sono uno che piace parlare tanto per parlare mi ha fatto veramente tantissimo piacere condividere questa mezz'ora non so 20 mezz'ora non so mi è passato non ci ho fatto neanche caso non ho guardato neanche l'ora quindi mi ho fatto estremamente piacere di condividere e anche anche di parlare anche su di cose che devo dire spesso domande che spesso magari non non mi fanno perché comunque devo dire che giustamente tanti giornalisti fanno sempre le solite domande comunque sempre diciamo sono sempre quelle diciamo quindi magari uno risponde e sembra sempre che si mette un po' un ct e fa sempre le stesse risposte mi ha fatto piacere di poter parlare di altre cose che sono sono ecco diverse noi ci tenevamo proprio guarda Sergio un secondo se ce l'hai prima di andare via perché sono arrivati un sacco di messaggi che ti ho mostrato ho mostrato mentre tu parlavi ma poi qui c'è una domanda specifica che se tu vuoi rispondere rispondi c'è F Fiorentini che ci chiede si sa già se è maschio o femmina al nuovo arrivo ah e guarda questa volta abbiamo fatto sorpresa con mia moglie abbiamo detto sorpresa io ho un'intuizione penso penso una cosa mia moglie pensa penso un'altra ma abbiamo fatto abbiamo detto un po' a sorpresa adesso vediamo facciamo facciamo così vediamo i follower di youtube ci si stanno svegliando adesso e c'ho ancora una domanda per te dal pubblico Sergio perdonami io te la giro vai tranquillo vai tranquillo Sergio quanto conta il mindset mentale nel rugby mi ci chiede Noemi le parole hanno la mia mindset si quanto conta conta nel rugby come anche nella vita che devo dire è un approccio a livello mentale ti dico io conta perché sicuramente l'aspetto mentale è fondamentale soprattutto nel rugby che ti devo dire che è uno sport come dicevo prima fisico quindi dove prendi tante botte cerchi di darle ma le prendi anche quindi ovviamente il sacrificio e anche la forza mentale è importante e devo dire che per l'esperienza visto che adesso sono alla fine a fine carriera se uno non ha quella forza mentale di riuscire anche a non solo non parlo solo della soglia del dolore ma anche di riuscire ad andare avanti nonostante magari certi infortuni certe cose che possono capitare durante una carriera è difficile è difficile giocare e soprattutto ecco quando entri su un campo di rugby devi per forza avere anche un approccio mentale particolare perché sai bene che è uno sport ma che è anche uno sport fisico di contatto e quindi devi mettere anche il tuo corpo in una situazione anche la tua mente mentale in predisposizione ecco per andare in guerra anche perché tu sei bello grosso ma non sei né l'unico grosso né il più grosso quindi assolutamente non sono sicuramente il più grosso di tutti devo dire che devo dire che come dicevo prima è anche una delle cose belle che magari uno non ci fa caso ma devo dire che è una cosa proprio bella del rugby in generale che è uno sport che permette che ha un ruolo per ogni tipo per ogni tipologia di persona anche a livello fisico io gioco con magari con giocatori che magari non sono alti 1,95 come me magari sono alti 1,80 1,75 1,70 e magari fanno non so 125 chili 130 chili ma hanno un ruolo hanno un ruolo determinato all'interno della squadra che è fondamentale e che ha bisogno di un fisico come loro capito come il suo loro quindi il rugby in generale ha proprio questo è bello perché è inclusivo e perché anche in base anche al tuo fisico e alla tua fisicità cioè Beppe c'è speranza ancora Beppe c'è speranza allenati inizia il giardino uno degli ultimi giocatori più forti del mondo Shea Williams non so quanti anni fa è stato eletto miglior giocatore del mondo 1,70 lui è per esempio un esempio un folletto 1,70 che se tu lo vedi a Cardi con una Guinness in mano magari non dai 2 lire e invece si mette la maglia rossa del Galles lo metti in giro per il campo e per placarlo devi fare magia perché è veloce ha pochi incredibili quindi è sicuramente un esempio un esempio anche importante comunque secondo me lo liberiamo ma io ho visto alcuni video ed è impressionante come vedi gente appunto magari come Sergio 1,96 per 110 kg tutto muscoli correre veloce come un treno cioè perché tu solitamente la gazzella te la immagini così nel senso quello che corre bello veloce è sottile effettivamente ci sono dei ruoli io per esempio il mio ruolo è terza linea numero 8 quindi in realtà è un po' come dire se la devo spiegare così senza essere troppo tecnico troppo preciso è un po' la via di mezzo tra i giocatori veloci veloci esplosivi e i giocatori tra virgolette più potenti magari più forti ma un po' più lenti puoi dire ciccioni in C2 si dice ciccioni in C2 in C2 quindi è un po' diciamo il legame la via di mezzo bene bene raga che puntata figa a me è piaciuta veramente ovvio ragazzi facce da P non finisce qui Sergio domattina si alza presto per andare ad allenarsi quindi ci saluta brevissimo ma rimanete che facce da P continuo anzi abbiamo un altro ospite altrettanto mi viene da dire rasato altrettanto rasato altrettanto rasato tra poco devi anche te iniziare un po' in realtà in realtà sto iniziando è quella la cosa Sergio le abbiamo detto a Francesco che o si rasa entro la prossima stagione di facce da P o se no ci sei tu come conduttore come è Beppe non possiamo tenere tanto io finisco di giocare tra poco quindi vada l'anno prossimo sono operativo quando vuoi allora Sergio qua lo diciamo e qua non lo neghiamo l'anno prossimo che sei finito di giocare puntata intera con noi e si parla per bene di rugby per un'ora abbondante va bene? volentieri volentieri guarda con moltissimo piacere ah ci sono persone con disabilità che giocano a rugby il rugby è davvero inclusivo ci fa notare Mariana sì 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 è vero è vero c'è anche il rugby il rugby chair che si gioca dove si fanno delle partite anche durante sei nazioni a Roma e quindi no no devo dire che il rugby in generale cerca ovviamente di espandersi di aprirsi verso tutti anche perché anche il fatto che sia uno sport estremamente maschile esiste anche il rugby femminile e devo dire che le nostre ragazze italiane anche sono molto 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 brave meno come delle fabbre io ho un'amica che gioca in una squadra di rugby femminile che saluto si chiamano le fate male temene no comunque ragazzi tanti già si portano avanti con la conduzione di voi tre l'anno prossimo sì chiara ci fa notare che infatti facce da pista anche per facce da pelati è lì che ti preoccupare Francesco vedi te a te la chiosa a te la chiosa e la chiusura ma mi fai sempre fare questa chiosa a tradimento no no il sentimento il sentimento ma no è stata una puntata bellissima guarda ti dico la verità Sergio se io se mi avessero chiesto come vorresti che uscisse questa puntata la concludo con una frase che hai detto tu qualche minuto fa che è quella è la maggiore gratificazione per per questa questi 40 minuti vatti insieme mi sono divertito e mi avete fatto le domande che normalmente non mi fanno e quindi si è percepito il tuo star bene ma tanto quanto il nostro quindi per me va bene così io sono davvero onorato di poter di essere qui davanti al telefono a parlare con Sergio Parisi mi sembra folle solo a ripeterlo sappi che Beppe da quando gli ho detto ma lo sai che io e la moglie di Sergio Parisi ci seguiamo a vicenda su Instagram ci siamo scambiati qualche like qualche commento dai magari ti faccio il regalo provo a chiedere se riusciamo a coinvolgere Sergio e niente Beppe si pasticcia il pasticcino da quel momento ho proprio detto che era ma no veramente Parisi ma davvero ma dai lasciamolo andare vi ripeto veramente lo dico chi mi conosce lo sa con molta sincerità ho passato veramente una bellissima mezz'ora 40 minuti non so quanti mi ha fatto estremamente piacere fare delle chiacchiere con voi è stato veramente veramente bello quindi ovviamente vi dico la prossima volta quando volete quando c'è la possibilità con moltissimo piacere grazie Sergio grazie Sergio grazie a voi un abbraccio in bocca al lupo per tutto grazie venerdì noi pichiamo per te e poi vado signori anche Sergio Parisse deve spegnere la lavastoviglie giusto ciao Sergio grazie a finire ciao 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 che spettacolo ragazzi Sergio Parisse che personaggio che persona contentissima bellissima puntata veramente una puntata che non è ancora finita ragazzi mi raccomando perché abbiamo un secondo ospite abbiamo un secondo ospite di questa puntata secondo ospite del quale attenzione mandiamo il video introduttivo eccolo qua perché oggi a facce da P da qualche mese ha una bollente storia di sesso con una donna più vecchia di lui e ha scritto un libro dove racconta della loro passione da sempre impegnato nel sociale specializzato nel recupero di ragazzi tossicodipendenti ha però ceduto alle gioie dell'alcol e beve come un alpino dai quali è stato nominato sommelier del generale quando non è impegnato a farsi le canne lo puoi trovare sulle panchine a bere birra oggi a facce da P per presentare il suo nuovo libro Beppe Lamberto Beppe Lamberto ho preparato tutto ma poi le foto dove cazzo le avete pescate sul tuo profilo facebook trovate delle cose su quel profilo lì ne avevo trovate anche di molto più compromettenti Beppe però ti ho risparmiato diciamo la figura ecco in quel periodo in cui cercavi disperatamente ancora di non perdere i capelli però non le ho messe perché diciamo signori adesso una cosa particolare faccia da P continua puntatona l'ospite di questa sera è proprio Beppe ragazzi perché Beppe è uscito qualche giorno fa la data Beppe in cui è uscito è il mio sabato 2 ottobre c'è stata la presentazione sabato 2 ottobre presentazione ufficiale il secondo libro di Beppe Lamberto libro del quale abbiamo una diapositiva tac vietato calpestare i sogni la rivoluzione degli elefanti rosa Beppe 4 parole 4 introduttive su questo libro 4 parole 4 questo libro mi piace tantissimo adesso vi spiego perché perché in realtà le 4 parole le hai dette adesso passiamo questo libro mi piace tantissimo sporato no sai perché perché metaforicamente è una cosa figa nel senso che mi era stato chiesto due anni fa mi è stato chiesto di fare questo libro in quanto fondatore di un'associazione di rugby che oggi quest'anno compie dieci anni e questo libro doveva essere inizialmente un libro di almanaco foto e aneddoti ma sai quei libri dove trovi i nomi le formazioni qualche foto dove uno secondo me se lo apri cerca il suo nome chiude mette via va bene e quando è arrivato il momento di scriverlo io stavo iniziando a fare la continuazione del mio primo libro di Papa Travel Experience e quindi non avevo assolutamente voglia di iniziare a scrivere questo e quando poi mi sono perché ti dico che è bello perché è bello il modo in cui è nato nel senso che ho detto ok facciamo in modo che quello che io devo scrivere e quello che voglio scrivere diventino la stessa cosa e quindi una cosa che stavo per fare controvoglia l'ho ribaltata mettendoci del mio quindi creando una cosa completamente differente una cosa che può essere letta da tutti che parte dal rugby pensa io quando quando lo scrivevo nel lockdown mandavo a due mie amiche che non c'entrano cazzo con lo sport dei pezzi ho detto perché se piace a loro dei pezzi di intervista eccetera può piacere a tutti e quindi per questo ti dico che è bello perché poi è la dimostrazione che che belli che siamo e comunque se siamo capaci a ribaltare le cose quasi qualsiasi cosa quasi qualsiasi cosa anche apparentemente negativa può essere ribaltata in positiva e concludo dicendo una cosa che dico sempre alle presentazioni che è tanto bella che alla fine per certi versi la nostra vita è data dal 20% più o meno rispetto a quanto a quello che ci capita il resto dipende da come reagiamo noi alle cose e quello è quello che ci che ci permette di andare avanti sono pienamente pienamente d'accordo io ho una domanda per Beppe classica un po' per chi ci segue chi segue faccia da p sa bene o male quali sono le cose che interessano a Beppe e quindi mi chiedo nel primo libro che io ho esattamente in camera da letto di là perché ti ricordi che avevo iniziato a leggere il primo capitolo e lì è rimasto e lì è rimasto ma perché io non leggo ragazzi però è stato il primo capitolo uno dei pochi capitoli della mia vita che io ho concluso perché di solito io purtroppo non leggo sono una capra da questo punto di vista ma Beppe nel primo libro ce n'era ma in questo secondo libro c'è figa no ce n'è molta di meno ce n'è molta di meno c'è nel prologo che dice a chi è dedicato il libro è dedicato anche a quelli no non ce n'è non ce n'è ma c'è altra roba c'è altra roba no un po' ce n'è allora sai perché ce n'è ce ne sono tre o ce n'è o non ce n'è cioè cercare di venderla c'è o non c'è c'è ok nelle nel frattempo Marco nel frattempo sta cercando la figa nel libro guarda se c'è la devo trovare no c'è in un modo più romantico perché questo libro contiene sette interviste di persone che io dico sempre uomini e donne ancora prima di sportivi perché sono degli sportivi nelle però dei quali ho voluto far prevalere la storia di vita quindi non sono storie di sport sono storie di vita di uomini e donne di sport e le tre ragazze che ho intervistato sono veramente tre fighe con la F maiuscola perché sono tre persone meravigliose quindi volevo dirti specifica la parte poetica del sono tre fighe perché se no con la F maiuscola perché sono persone meravigliose ok io penso che chi ci segue lo sa che poi scherziamo con questa Sara ti chiede se adesso che hai la Queen Betty non ti importa più della giustamente anche perché adesso ci racconterai di questa love story molto forte con la Queen Betty ma prima ti raccomando la Queen Betty io ho una domanda vai vai è una domanda seria Beppe perché quest'estate mentre tu eri alle prese con la scrittura e la stesura di questo libro abbiamo passato del tempo anche insieme di fare svariati campeggi e c'è stata la possibilità davanti a della buona birra mentre i bambini se ne andavano a nanna di chiacchierare di cose un pochino come dire che di solito non abbiamo il tempo di sviscerare quindi per me è stato un piacere oltre che un momento di conoscenza che va oltre quello che può essere la chiacchiera comune perché è stato molto molto piacevole piacevole come dire esternare anche un po' il se stesso che c'è dietro alle maschere che noi ci mettiamo tutti i giorni in uno di quei momenti mi hai chiesto quale fosse il mio feedback del tuo primo libro proprio perché a te interessava capire se quel libro scritto in quel modo che parlava della storia che tu hai raccontato nel primo libro che non faccio spoiler così ve lo andate a leggere perché è inutile che adesso cercate di spoiler e quindi hai voluto da me sapere questo feedback io ricordo ancora il feedback che ti ho dato del primo libro che era esperienza raccontava un'esperienza un'esperienza che ognuno riesce poi a far sua e quindi in un certo qual modo la storia che tu racconti diventa una parte di quel cammino diventa anche la parte del cammino di chi legge se invece io dovessi chiedere a te ora un feedback di questo libro che ancora noi dobbiamo iniziare a leggere la prima parola che ti viene in mente per definire questo libro qual è? sai che lo devo ancora conoscere questo libro ti sembra una cazzata ma come risposta ma il libro lo devo imparare a conoscere e lo devo imparare a conoscere parlandone facendone presentazioni io so il percorso che ho fatto adesso vabbè casualmente ovviamente questo è il primo libro con cui abbiamo parlato soprattutto era qui casualmente ma non hai idea di come siano Francesco c'era alla seconda presentazione di quel libro presentazioni che sono completamente stravolte si sono stravolte del tempo perché io ho iniziato a conoscere il libro e a capire veramente il libro metti ma poi pian piano ti restituisce capito io ho buttato tanta roba qui dentro poi piano piano l'ho riassorbita parlandone e quindi ho imparato a conoscere questo libro quest'altro secondo libro al momento io non lo conosco ancora so cosa ci ho voluto mettere dentro però poi non so cosa in realtà uscirà e cosa le persone coglieranno da questo libro sicuramente quello che io ho voluto mettere è un esempio non si parla di rugby si parla in maniera marginale e si parla in maniera marginale di di alcune persone perché alla gente non interessa cosa ha fatto quello o quell'altro cosa hanno fatto io ho voluto mettere semplicemente quello che abbiamo creato noi come esperienza per far capire a tutti che chiunque può fare qualsiasi cosa noi un gruppo di trentenni che senza aver mai fatto sport si è improvvisato regbista e ha messo una società e adesso c'è un'associazione con un centinaio di tesserati tutta una roba che è diventata molto grande ma non è quello il punto non parlo di quello parlo di come uno può abbattere i propri limiti togliere i pregiudizi togliere le maschere fottersi del giudizio degli altri che è una cosa che ci condiziona profondamente ecco io una persona fra per esempio fra che è qui è una delle persone meno condizionate dal giudizio che io conosca ma lo dico in modo molto positivo e io prendo spunto da lui si confermo io me ne sciacquo la minchia proprio si confermo che questo l'ha detto l'ha detto anche un poeta famoso immagino mi ricordo il nome davanti a una famosa fontana disse io mi ci sciacquo la minchia no ma è così è così e quindi questo è quello che voglio far venire fuori da questo libro poi cosa io sia riuscito a fare lo capirò dai feedback delle persone e sicuramente stanno arrivando dei buoni feedback a parte di uno dovete andarvela a vedere una recensione su Amazon perché come dirigente di questa associazione due o tre anni fa ho mandato allontanato una persona perché non rispecchiava i valori etici della squadra e a distanza di tre anni ha fatto una recensione tipo andatele a vedere su Amazon la riconoscete subito così capite come quindi a parte quel ma sì ma lì quando c'è della frustrazione anche perché io credo che un nel frattempo ragazzi scusatemi ma Alberto giustamente me ne sciacquo la minchia proprio è un nuovo hashtag di faccia prova bene tutti insieme però hashtag me ne sciacquo hashtag me ne sciacquo la minchia cioè proprio chi ti riempie la bocca e ti soddisfa esatto l'hashtag anche che dedichiamo a quella recensione lì anche perché ci sono anche altre recensioni tutte entusiaste quando io trovo che non ci sia niente di più brutto di cercare di inficiare il percorso di qualcun altro solo perché il nostro percorso è rimasto interrotto o sporcato per colpa di A per colpa di B per colpa mia per colpa sua però poi andare dopo anni dopo del tempo ad andare a rovinare il percorso di qualcun altro in maniera poi così greve e assolutamente priva di 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 qualsivoglia spessore perché poi ragazzi io quella recensione l'ho letta tenta anche di fare tenta nel momento in cui ti dice dice qualcosa sul su come è scritto il libro lui stesso in quella frase picchia lì tre strafalcioni di quelli incredibili quindi stiamo parlando del fatto che io non potrei mai giudicare rimanendo su Paris io non potrei mai dire se Paris sappiamo che è il numero uno ma io non potrei mai dire Paris se non mi piace come ha fatto quella meta perché io non ho mai preso in mano la palla ovale quindi lui scrivendo sgrammaticato la frase in cui ti ha fatto il diciamo il non complimento su come è scritto il libro si è in quel momento ha qualificato da solo tutta la sua recensione cioè nel senso sì sì ma ragazzi non usate il modo giusto per definire la cosa mi interrompo ma perché ne abbiamo cioè non volevo parlare di questa cosa è giusto parlarne perché se uno è un pezzo di merda e adesso vado anche a vedere come cazzo si chiama la merda ma no ma ragazzi cioè parliamo di altro questa roba era proprio una battuta è grosso e ti mena o posso andare a vedere come si chiama ma no ma guarda ti rispondo così c'è una cosa una frase di Coelio che ho letto l'altro giorno sul suo profilo e cioè se ti fermi a litigare con uno stupido le persone che passeranno dopo non capiranno la differenza quindi cioè va bene così attenzione ma te ne sa Coelio guarda che ne sa un sacco guarda che Coelio lo sapeva bene come avere a che fare con i coelioni capito quindi va bene così va bene così no no sono contentissimo vediamo cosa salterà fuori comunque tornando a Monte al momento non so se è uscito un nuovo DPCM ma al momento credo che presentazioni live non ce ne siano o ce ne ha facendo le corna dopo domani mercoledì dovrei averne una veramente figa a Rimini al TTG che è la fiera del turismo più importante d'Italia e quindi sono stato selezionato ti dissi che ti avrei ospitato a Cattolica ma io sto ancora a Vigevano quindi eh no infatti esatto ho immaginato quindi non ti ho detto nulla quindi c'è chi vorrebbe il nome di quella persona per mettergli marcheggiargli ma no non è importante andate a vedere il mio libro piuttosto su Amazon guardate le recense guarda che c'è Elena che ti ospita lei a casa sua vedi c'è scritto vieni qui ragazzi io sapete io chiedo scusa anche a chi manda i messaggi perché io lo schermo già è piccolo e poi io lo vedo poco e quindi vai fra no no già che hai parlato già hai già detto tutto tu che comunque è piccolo e lo vedi poco però insomma non c'è infatti infatti che l'ho servita te l'ho servita fermi tutti Rimini dove a che ora lo sai già sì alle 4 e un quarto all'arena della fiera di Rimini ma è una è probabilmente solo per operatori è una fiera solo per operatori quindi non so se un visitatore normale può entrare quindi credo che se qualcuno mi contatta può entrare con me perché io dovrei avere se non sbaglio uno o due pass come per accompagnatori quindi non so se qualcuno vuole dire mi fa tutto spiegare ma quando mercoledì pomeriggio mercoledì 14 ottobre e poi non so vediamo anche l'anno scorso prima del lockdown non so se sta dicendo che è fiera di qualcosa o se ti sta suggerendo che è una fiera non lo so sì fiera di settore ha scritto dopo ah sì fiera di settore ok perfetto fiera di settore che Beppe tu ci spiegherai cosa significa certo dove praticamente Francesco o Marco a meno che non siano degli operatori turistici dei tour operator delle agenzie di viaggio o delle strutture insomma che non siano del settore turismo non possono accreditarsi quindi frati dobbiamo aprire un bed and breakfast subito al volo adesso con partita IVA e poi possiamo entrare a vedere Beppe esattamente esattamente va bene allora adesso mi chiedo io Beppe come ben sai di fornirti una location qua nel milanese dove presentare il tuo libro dopodiché appena io avrò tutti i dati della location ti faccio fattura e poi avvisiamo la faccia da P perché qui nel milanese magari siamo un pochino più facilitati a essere presenti perché comunque la situazione è quella che è però noi non possiamo non andare costantemente alla ricerca della bellezza e quindi il fatto che tu ti sia messo e abbia scritto il secondo libro rientra nella sfera delle cose belle e quindi bisogna sponsorizzarle e farle farle nostre assolutamente assolutamente dai chiudo proprio con un pezzettino chiudo con un pezzo proprio bello che non mi sono preparato davvero però dai chiudi con i ringraziamenti chiudo con i ringraziamenti chiudo con i ringraziamenti quello a me è piaciuto un sacco chiudo con i ringraziamenti vabbè ma si dai li ho letti anch'io effettivamente con un pezzo di ringraziamenti dai allora chiudo con un pezzo di ringraziamenti a chi mi ha colto per scrivere questo libro regalandomi nuovi luoghi da chiamare casa quindi il campo sospeso della Valsesia e lo yoga house di Macerata e il mille soli di Lumbria a Sabrina Giulia Andrea Anna Chiara a Noemi perché c'è sempre c'era anche stasera lei che ha fatto la domanda sul mindset a Sergio Parisse e a quelle facce da piedi Marco Fagnani e Francesco Cannadoro c'è scritto qui c'è scritto ma no ma allora lo compro e tra l'altro subito dopo il vostro ringraziamento a quelle due galline di Jessica e Samantha sono due galline ah così delle galline che c'erano nelle tue storie quelle che venivano lì sotto il top esatto mentre io ero a scrivere al campo sospeso c'erano queste due galline Jessica e Samantha e quindi credo di essere stato il primo ad aver ringraziato due galline Scusa Fraccia ha ringraziato appena prima delle galline non è male beh certo io sono emozionato perché è la prima volta che vengo ringraziato in un libro soprattutto in un libro in cui non c'entro un cazzo cioè quindi è una cosa veramente non parla di meno non ho aiutato a scriverlo no se lo leggo scopro che c'entro no non è quello però il libro l'ho scritto io ci ho messo quello che sono io noi siamo la somma delle persone che incontriamo se io non avessi conosciuto voi due non avessi fatto faccia da P magari sarei migliore non è che dico che sarei migliore ma cagare però magari anche no ciao Noemi comunque sono molto allora quando Beppe quando mi è arrivato il libro che è questo è aneddoto di vita vera quando mi è arrivato il libro mi è arrivato il libro figo la 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 non mi ricordo più che cosa mi fa no ma scemo vai a vedere i ringraziamenti allora sono andato a vedere i ringraziamenti apro guardo leggo e mi emoziono perché io poi a me mi scende la lacrima facile quindi mi sono emozionato tantissimo e mi emoziono ancora adesso quindi sono contento di essere lì e sono contento di aver fatto parte senza essere una pietra fondamentale della costruzione di questo libro però durante la scrittura di questo libro e Beppe abbiamo chiacchierato abbiamo fatto faccia da P insieme a Fra abbiamo incontrato tante persone seppur virtualmente come le persone che ci seguono perché siamo partiti da lontano siamo arrivati fino a qui ragazzi oggi Sergio Paris è in diretto con noi ci saranno anche uno stacco di altri ospiti e quest'anno faccia da P sta diventando qualcosa sempre di più concreto grazie anche alle persone che ci seguono che che ci condividono che ci appoggiano che ci fanno capire che quello che stiamo facendo è cosa bella e quindi e quindi sono stato molto contento di essere nominato tra i ringraziamenti pensate che mio fratello nel suo primo libro da giornalista non mi ha ringraziato quindi ma non l'hai non l'hai screditato l'ho insultato insultando sua mamma finché poi non mi sono ricordato che è mio fratello e quindi che era anche la tua e quindi c'era qualcosa che non ho messo però ho dovuto aspettare il secondo libro per finire nei ringraziamenti ah nel secondo libro si è finito nei ringraziamenti sì perché se no veramente ti bruciavo la macchina cioè non per altro direi che che cosa che tra l'altro era quasi successa eh sì questo è questa mi manca eh questa mi manca cosa è era quasi successa che ti bruciò la macchina ragazzi ho preso tempo per dirvi che io ho appena comprato il libro di Beppe ah grande allora due cose andate a comprare il libro di Beppe se non andate in libreria lo potete comprare su Amazon e vi arriva a casa vi è tanto colpestare i sogni Beppe Lamberto ma un'altra cosa importante ragazzi siamo in missione Beppe è lo scrittore di cui ho più libri sì lo scrittore di cui ho più libri bravo comunque ragazzi vai di missione in missione ragazzi siamo in missione facciamo una cosa ragazzi attenzione non è difficile allora se ci state guardando al computer prendete il vostro smartphone andate su Instagram andate sul profilo di Cristina Davena dai dai il tempo facciamo così lo faccio io in diretta cosiddettiamo i tempi ok allora se ci state guardando da pc prendete il telefono se ci state guardando da smartphone no perché andate via tutti da seguirci da pc da pc andate su Instagram entrate lo faccio anche io con voi scrivete sulla link di ingrandimento Cristina Davena Davena official si chiama esatto è questo qua andate sotto l'ultima foto è lei che mangia credo delle torte no della roba giapponese sì perché c'è marrabbio dietro quindi roba giapponese e gli scrivete nei commenti taggando di diario di un padre fortunato Beppe Lamberto giorni da papà ti stanno cercando perché ti vogliono ospite su faccia da p voi gli scrivete o qualcosa del genere riportate che ci taggate a tutti e tre ragazzi la nostra missione è questa se ora siete da smartphone aspettate a fine puntata mi raccomando è semplice instagram cristina davena ci taggate nei commenti del suo ultimo post ti stanno cercando per invitare qualcuno non deve aver capito solo se siete da pc perché sono andati sono calati venti di botto stiamo andando a fare questa roba io ho specificato ragazzi attenzione dai le parole sono importanti comunque missione segreta che non è segreta è una missione vorremmo cercare di invitare a faccia da p cristina davena ci stiamo provando se voi ci aiutate tutto è possibile per esempio qualcuno ha scritto cristina davena ci sono tre giovanotti che ti cercano bravi infortunato giorni da papà e beppe lamberto insomma una frase così bravi ti stanno cercando non molliamo ragazzi che dire che dite dite qualcosa direi di ricondividere questo pezzo di cultura incredibile la puntata di oggi di faccia da p era di beppe no dicevo a proposito della foto poi non dico più niente prima guardavo Sergio e i trapezzi gli arrivavano quasi a le ore è che è in sciro è che è in sciro enorme cioè lui non ha bisogno del salsicciotto quando vai in aereo se appoggia i trapezzi fategliere di persona queste battute gente se ci stai ancora guardando sei bellissimo io ti invidio invidio tantissimo cioè enorme in tutti i sensi ragazzi condivido qualche qualche commento ragazzi che ci 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 complimenti per il programma c'è chi vuole il libro autografato di beppe ragazzi questa è stata una puntata particolare di faccia da p particolare perché ovviamente nel tentativo di offrirvi sempre il meglio siamo andati a pescare uno sportivo tuttora impegnato quindi comunque Sergio ci ha dedicato questi 40 minuti è stato veramente gentile disponibile che lui domani mattina si sveglia presto per gli allenamenti e quindi questa puntata di faccia da p è venuta leggermente più corta leggermente più corta abbiamo parlato di beppe del suo libro settimana prossima ragazzi invece potrebbe essere che abbiamo il doppio ospite uno sicuro uno sicuro che è Matteo Mondini Matteo Mondini è un ragazzo che non ricordo la data vabbè ha perso ha avuto un incidente sul lavoro in seguito al quale gli è stato amputato un braccio e adesso gira le scuole gira gira i social per parlare di sicurezza sul lavoro per parlare un ragazzo molto in gamba interessante e insieme a lui forse ci sarà un altro ospite che ancora non vi diciamo perché non avendo ancora concluso la la trattativa la trattativa la trattativa non possiamo dirvelo ma 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 ragazzi puntatona ve lo assicuro ve lo assicuro stiamo cercando sempre di andare sempre sempre più in là e come è già finito sì perché vi deve rimanere quella voglia di facce da p e quindi bisogna finire la puntata la puoi rivedere sicuramente sì sui nostri profili facebook e sulla pagina di youtube ho detto bene sì sì sul canale di youtube di facce da p o sui profili facebook di diario di un padre fortunato giorni da papà e beppe lamberto papà travel experience rimane rimane salvata e un pelo più corta del solito lo sappiamo ragazzi ma questa puntata è così però questa stagione di facce da p ragazzi è già partita col botto cioè luca trapanese sergio parisse avremo io non voglio non voglio dire dei nomi perché non è giusto ma abbiamo 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 contattato dei comici altri campioni dello sport questa stagione di faccia da p ragazzi sarà qualcosa di 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 incredibile se riusciamo a portare Cristina D'Avena anche grazie a voi sarà una puntata strepitosa quindi mi raccomando siamo sì sì no niente stavo Cristina D'Avena assolutamente ragazzi ragazzi Cristina D'Avena io basta la gioia c'è Samantha che ti manda un abbraccio con l'occhiolino è una delle bimbe di Beppi Samantha è una di quelle tre F che ho nominato prima perché la sua storia è molto interessante attenzione il battutone di Claudio ragazzi Cristina D'Avena per una puntata adatta ai celiaci direi che ciao e la faccia da P finisce qui signori con le luci ma dove è andato ma tirati tutto Claudio hai distrutto la regina sono uscito grazie per averci portato verso il basso pensa se avessi buttato via la puntata con questo numero no no invece siamo ancora qui Consuelo vorrebbe le puntate più lunghe è vero Consuelo hai ragione però è anche vero che noi abbiamo notato che se vi lasciamo con un pizzico di voglia ancora di faccia da P la settimana dopo è più facile ritrovarvi e poi posso fare un'altra cosa sentita ragazzi non so adesso Sara Samantha è morta un'altra volta la webcam Claudio Francesco Elena Silvia Consuelo leggo tutte le persone che stanno commentando adesso bisogna investire in una cosa che si chiama pubblicità quindi invitate la gente a seguirci dite che ci sono tre figli incredibili più la regina che lunedì passiamo un'ora e mezzo tutti insieme quando vedete la puntata condividetela mentre la state guardando condividetela sui vostri profili facebook nel frattempo ragazzi c'è un commento che io credo che adesso sento l'avvocato e andrò a divorziare perché mia moglie dice siete fantastici e dopo Cristina noi donne vogliamo un bel maschione credo che c'è stato l'ospite con più testosterone della sera di faccia da pista una botta di testosterone che c'è l'ho sentita io qua dietro praticamente l'ammazzata Marcolino io su Instagram ho dato ho visto ho visto Chiara grandissima grazie mille guardate ecco esatto intanto andate a Samantha hai ragione Marco ok finissimi sto leggendo qualche commento anch'io ma mi devo proprio avvicinare come un anziano sei cieco così è inutile che la la tiriamo lunga sapete che a noi piace tirarla lunga se ci sono argomenti questa sera abbiamo concluso con l'ospite abbiamo parlato con Beppe del suo nuovo libro che vi invitiamo ancora ad andare ad acquistare in sovra come vedete in sovra in pressione la copertina è vietato calpestare i sogni di Beppe Lamberto la rivoluzione degli elefanti rosa ragazzi e anche vabbè Peppe Lamberto papà mi raccomando la parte più bella del libro sono i ringraziamenti dove c'è una riga dove scrive ringrazio con le due facce di Marco e Francesco e io con questa emozione vediamo abbiamo una diapositiva anche di questa Marco Fagnani e Francesco Canadoro comprerò il libro solo per questo ragazzi ragazzi salutiamo e andiamo a fare la mano buonanotte a tutti ciao ragazzi e mi raccomando adesso manderò la sigla ma mi raccomando voi lo sapete che Beppe ce l'ha piccolo ti vediamo tutti se dovessimo cercare qualche cosa da guardare oggi sceglieresti Facebook perché c'è Faceda B che fa scassare basterebbe solamente dire che c'è Marco che sa recitare poi c'è Peppe la regina c'è Francesco il suo ego che mara ora mettiti seduto e concentrato che tra poco qui si inizia e non abbiamo ancora staccato Beppe ce l'ha ancora piccolo ciao grazie ciao